ciao sono ornella uzzino sono napoletana e produco borse in questo video faccio un appello un appello per salvare il made in italy per salvare le borse fatte in italia perché vi dico questo perché purtroppo in realtà non si sa davvero chi produce le borse portafoglio le cinture made in italy è un'etichetta ok la mettono su tutti i prodotti la mia idea qual è perché i brand soprattutto loro che impegnano tante risorse tante energie spendono centinaia di migliaia di euro per poter far sì che la filiera sia tracciabile ci siano tutti i documenti in regola che le aziende siano certificati tutti questi paroloni non mettono il nome dei terzisti e dei loro fornitori sui siti darebbero un grande esempio immagina se in una pagina ci fosse l'elenco del nome delle aziende che producono le borse gli accessori o qualsiasi cosa per un brand del lusso piuttosto che per un altro questo favorirebbe due cose uno tu che compri la borsa sai chi è che ti produce la borsa sai dove stanno andando i tuoi soldi a prescindere di quanto paghi che quello è un altro discorso ma proprio tu sai in che cosa stai investendo un artigiano italiano straniero tu sai a chi sta dando questi soldi dall'altro lato darebbe la possibilità a molti artigiani di aumentare il livello di valore perché ovviamente sarebbe una pubblicità in diretta sarebbe davvero davvero importante per cui io cosa ti invito a fare a condividere questo video a condividere più volte possibile l'idea che bisogna mettere il nome dei fornitori degli accessori sui siti e chi lo fa è un passo avanti perché il brand del lusso che non ha problemi a dire io mi faccio fare le borse a napoli dall'azienda di zeccaio perché sono persone per bene o sono aziende certificate che io tengo sotto controllo non ha nessun problema già lo fa già controlla che motivo c'è che non deve essere palese questo dà al consumatore a chi compra la borsa la possibilità di scegliersi il brand che è più vicino ai suoi valori per cui salviamo i made in italy mettiamo i nomi dei fornitori sui siti se sei d'accordo con me commenta e condividi ciao